Nei primi mesi di quest'anno l'aggravarsi, fino alla notizia di questi giorni che circola nell'ambiente, Siniscia non ce la fa. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto. In particolare la dottoressa Francesca Bonifazzi, il dottor Antonio Curti, il professore Alessandro Rambaldi e il dottore Luca Marchetti. Siniscia resterà sempre con noi. Vivo con tutto l'amore che ci ha regalato. La moglie Arianna, con i figli Victoria, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicolas, la nipotina Violante, La mamma Vichiori e il fratello Drasen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare. Siniscia Mijailovic Siniscia Mijailovic, ex allenatore del Bologna morto all'età di 53 anni dopo aver combattuto una dura battaglia contro la leucemia da oltre 20 anni, era sposato con Arianna Rapaccioni, ex ballerino, showgirl. Arianna Rapaccioni è un'ex showgirl italiana che nei primi anni 90 ha lavorato come subretti in programmi, televisivi come Luna Park, il cui conduttore era Fabrizio Frizzi e anche in quelli che il calcio. Nel 1995 incontrò Siniscia Mijailovic quando ancora giocava nella Sampdoria e decise di mettere un punto alla sua carriera televisiva. Per prendersi cura della famiglia. E' bastato un incontro per far scoccare la scintilla tra Siniscia Mijailovic e Arianna. Rapaccioni Sinis è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno. Nel 95 l'ho conosciuto e nel 96 ci siamo sposati, ma ci siamo innamorati subito. Ci siamo guardati e non ci siamo staccati più dal loro matrimonio sono nati cinque figli. Quando l'ex allenatore annunciò il suo drammatico stato di salute, espresse il suo desiderio più grande, quello di poter guarire per amore dei suoi figli e della moglie. Non ho smesso subito di lavorare perché mi teneva vivo. Non vedevo l'ora di vedere l'allenamento dei miei in diretta tv dall'ospedale. Sono cose che mi tenevano in vita, ma soprattutto la mia famiglia, mia moglie Arianna e i miei figli. Victoria ha 25 anni, occhi verdi e lunghi capelli castani ed è la primogenita dell'allenatore di sua moglie Arianna, la ragazza ha quattro fratelli Virginia, Miroslav, Duscia e Nicolas. Nel 2019 è stato pubblicato un libro con il quale la figlia dell'allenatore ha raccontato il rapporto, con suo padre, descrivendolo sotto una veste inedita e decisamente più dolce. Mi hanno proposto questo progetto. Avevo paura, tanta, poi ho pensato che questo sarebbe stato un regalo stupendo per la mia famiglia, per me, per raccontare al mondo il grande cuore di papà. Perché per capire il suo sguardo bisogna conoscere la sua storia. Bisogna leggere il suo cuore, il nostro cuore.